allora oggi facciamo un breve video dove spiego come montare una dashcam in auto eccolo qua cominciamo col dire che il posto più utile, più semplice in cui installare una dashcam è probabilmente subito dietro lo specchietto retrovisore questo perché ci consente di effettuare un'installazione che non dà fastidio mentre siamo alla guida e allo stesso tempo è utile perché riesce a riprendere più o meno tutto quello che si vede da dentro l'abitacolo installarlo è molto semplice solitamente le dashcam hanno un cavo usb oppure che si collega alla presa accendisigari abbastanza lungo questo cavo può essere inserito nelle plastiche della macchina quindi in questo caso nella plastica del tettuccio noi lo andiamo a infilare all'interno andiamo quindi a far passare il filo all'interno delle plastiche del tettuccio arriviamo al montante che io ho quindi aperto faccio passare il filo all'interno del montante e andiamo giù 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 quindi questo montante poi lo andiamo a chiudere e la macchina chiaramente è come prima e non si nota alcun filo in questo caso io faccio scendere il filo sempre passando all'interno delle plastiche della macchina che possiamo aprire e arriviamo fino alla scatola dei fusibili ed ecco la scatola fusibili della mia scoda la troviamo sulla parte sinistra rispetto al volante subito sotto il cruscotto io qui sono andato a installare quindi una cosa in più che faccio rispetto al normale solitamente viene collegato o a una presa usb della macchina ad esempio come può essere quella che troviamo ormai nelle auto più moderne oppure magari alla presa accendisigari nel mio caso ho voluto veramente nascondere tutto quindi ho fatto finire il filo all'interno della scatola fusibili e all'interno della scatola fusibili poi sono andato a fare un ponticello con il fusibile dell'accendisigari quindi quando accendo la macchina anche questo fusibile viene alimentato e mi alimenta un sistema che mi converte poi l'alimentazione in una presa usb di cui vi faccio vedere l'immagine in questo momento questo che vediamo è appunto un sistema che converte l'alimentazione 12 volt in quella a 5 volt usb può essere molto utile in questo caso a questo punto richiudiamo la nostra scatola dei fusibili la dashcam dovrebbe essere correttamente installata vediamo un attimo se giro la chiave la dashcam dovrebbe ora accendersi ed ecco che vediamo una lucina comparire qui e significa che la dashcam è attiva e in questo momento sta registrando quello che avviene davanti a noi nel momento in cui io vado a togliere la chiave la dashcam si spegne perché non riceve più alimentazione e quindi praticamente ritorna allo stato di pausa se questo tutorial vi è piaciuto mettete like al canale e ci vediamo alla prossima ciao a tutti